Asolo, in segno di vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto, da ieri sera e per il prossimo mese la rocca sarà illuminata con i colori della bandiera italiana. Il bianco, il rosso e il verde come segno di solidarietà e fratellanza. E il comune di Asolo ha scelto di mettere in atto anche azioni concrete, avviando una raccolta di viveri e beni di prima necessità negli spazi delle scuole primarie di Pagnano per tutto il mese di settembre.